La marca Multiservizi cerca continuamente di innovare le proprie attività, i propri servizi, nel senso di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi che forniamo ai cittadini e quindi alle amministrazioni comunali interessate. È ovvio che in questo contesto l'occasione delle fondi del PNRR, che sono già usciti anche come bando, ci danno un'opportunità che è da cogliere perché non è poi automatico come qualcuno pensa, ci sono i fondi, quindi tutto tranquillo, no, si tratta di presentare dei progetti e sulla base dei progetti saranno poi valutati a livello nazionale e quindi speriamo di essere autori dell'ottenimento di una parte quantomeno di questi fondi. È un progetto che abbiamo fatto per tutti i comuni che ce l'hanno chiesto, non solo per Pesaro, questo lo vorrei sottolineare, è chiaro che Pesaro per la sua rilevanza e per la sua dimensione è la parte più importante e proprio in questa direzione abbiamo puntato sui cosiddetti cassonetti intelligenti o cassonetti smarti. Quindi da questo punto di vista adesso speriamo che le valutazioni siano positive, con Pesaro abbiamo pensato proprio per la sua peculiarità e ripeto per la sua dimensione di partire con una prima sperimentazione, al di là dei fondi, perché chiaramente poi si tratta di cambiare anche le modalità di raccolta, soprattutto nel centro storico che vorrei ricordare oggi abbiamo il porta a porta e quindi nell'area a destra di via Branca, quindi con l'angolo di San Francesco, via San Francesco, tutta la parte a destra partendo dal teatro Rossini del centro storico, andremo a posizionare in accordo con l'amministrazione comunale tenute conto di quelli che sono i parcheggi, la viabilità e quant'altro, gli spazi, andremo a posizionare sei isole ecologiche intelligenti, nei tempi che adesso andremo a definire con l'amministrazione, ripeto perché non è una cosa semplice, anche perché poi queste isole hanno bisogno dello spazio necessario per poi essere svuotate e quant'altro. Il salto di qualità che vogliamo ottenere è il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, la tracciabilità per quanto possibile dei rifiuti e quindi per arrivare anche alla tariffazione di questo servizio, quindi è un processo qualitativo che va anche nella direzione di quelli che sono gli orientamenti e le delibere dell'autority nazionale, che è Arera, che va nell'ottica di continuo miglioramento e efficientamento del servizio.